Era un po' di tempo che più di qualcuno me lo chiede e finalmente oggi iniziamo a parlare della filosofia del pensiero di Antonio Gramsci grande intellettuale italiano, marxista, anche se anche a modo suo, nel senso capace di innovare all'interno del pensiero marxista di portare un contributo importante e decisamente influente nella storia della sinistra italiana perché la sinistra non solo comunista ma soprattutto comunista italiana nel novecento è stata letteralmente plasmata almeno dal punto di vista intellettuale, ideale, dal pensiero di Gramsci. Oggi vedremo dove purtroppo Gramsci scrive e pensa a queste cose, dico purtroppo perché è in carcere, come queste idee nuove si relazionavano col pensiero marxista in generale poi con altre correnti che nell'Italia alle tempo erano particolarmente forti e poi magari nei prossimi video delineeremo anche meglio il suo concetto ad esempio di egemonia culturale, di intellettuale organico eccetera andiamo a cominciare Un cioccio di caffè nella solita tazza con la scritta andiamo a cominciare che pronuncio in apertura di ogni video con me ci sono i miei compagni d'avventura Topolino, Tostoi, Batman, De Andrè e le infono il mostro peloso io mi chiamo Ermano Ferretti, sono un professore di storia e filosofia delle superiori, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e dal marzo del 2020, dall'inizio della pandemia da Covid, sto realizzando su questo canale delle video spiegazioni di storia, di filosofia a volte anche di video di educazione civica legati ai libri, legati ai film, qualcosa anche sull'attualità che più o meno segue quello che si fa alle superiori a scuola ma ogni tanto si allarga ovviamente anche perché alle superiori si riesce a fare solo una parte del programma come sempre, come già si sa, a volte si deve correre, a volte si deve fare dei tagli ecco qui possiamo prenderci i nostri tempi ed analizzare anche magari quei pensatori nel caso della filosofia che alle superiori non si riesce a fare e che bisogna in qualche modo tagliare ad esempio Gramsci appunto che è il personaggio di cui parliamo oggi Gramsci è stato sicuramente un grande intellettuale italiano, un importante pensatore politico che però di solito alle superiori non si riesce a fare a meno che un insegnante di riferimento non abbia una particolare predilezione, una passione per Gramsci di solito Gramsci è uno di quelli che vengono tagliati perché? Perché sicuramente in Italia ha avuto un peso però è anche un intellettuale abbastanza limitato all'Italia e soprattutto che a volte viene sacrificato visto che in quinta si fa già Marx sul quale si sta parecchio tempo e in storia comunque si sta parecchio tempo sul marxismo, sul comunismo, sul leninismo anche ecco per mille motivi a volte Gramsci lo si salta anche perché devo dire che sui manuali più in uso in Italia i manuali di filosofia intendo a Gramsci sono dedicati in genere 3-4 paginette a farla grande appunto perché il suo peso forse non è così fondamentale nella storia della filosofia lo è maggiormente nella storia magari perché come vi dicevo anche nella premessa effettivamente le sue concezioni, le sue idee hanno avuto un influsso pesantissimo sulla storia del Partito Comunista e visto che il Partito Comunista ha avuto un influsso importante sulla storia dell'Italia della seconda metà del Novecento allora capire Gramsci aiuta a capire la storia anche se poi relativamente alla filosofia l'influenza è stata minoritaria allora chi è Gramsci? Intanto diciamo qualcosa sulla vita e poi iniziamo a vedere anche i primi elementi del suo pensiero anche se vi anticipo già che dedicherò due video a Gramsci credo due perché esaurire tutto il suo discorso in un unico video mi sembra forse un po' troppo esagerato allora chi è Gramsci? Gramsci è un tanto un intellettuale sardo nasce ad Ales in Sardegna nel 1891 quindi fino a 800 ma già molto giovane, già attorno ai 20 anni lascia la Sardegna e si trasferisce a Torino grazie a una borsa di studio per studiare si trasferisce a Torino e si scrive alla facoltà di lettere non prenderà la laurea perché durante gli studi si farà prendere da altre questioni questioni legate alla politica di quel momento e lascerà perdere gli studi si dedicherà anima e corpo appunto alla politica come dicevo è del 91, attorno ai 20 anni passa a Torino quindi vuol dire che arriva a Torino negli anni immediatamente precedenti alla prima guerra mondiale Torino è la città forse la città più industrializzata d'Italia in quel momento non sono molte le città industrializzate in Italia sono soprattutto nel triangolo industriale Torino-Milano-Genova c'è qualcosina in Umbria, qualcosina in altre zone ma principalmente lì a Torino quindi si sta creando ormai già con una certa consistenza il primo grande gruppo operaio, ceto operaio italiano infatti Gramsci complice i fermenti che si respirano a Torino complice le lotte sindacali che si vivono a Torino siamo negli anni del partito socialista di Turati di Filippo Turati, gli anni dei governi di Giolitti siamo in quegli anni lì se avete presente la storia e se non ce l'avete presente vi metto un link in descrizione ebbene in quegli anni Gramsci si avvicina alle lotte del partito socialista entra nelle file del partito socialista e inizia a rarsi da fare poi arriva la prima guerra mondiale che interrompe un po' tutto ma alla fine della prima guerra mondiale lo ricorrerete in Italia scoppiano una serie di tumulti soprattutto appunto nelle città industriali del nord perché inizia il cosiddetto biennio rosso gli operai iniziano ad occupare le fabbriche a Milano, a Torino, eccetera e iniziano a chiedere cambiamenti molto radicali ispirati in parte anche da quello che era accaduto in Russia pochi mesi prima perché nel 1917, alla fine del 1917 in Russia scoppia la rivoluzione comunista la rivoluzione bolshevica guidata da Lenin che è un altro grande esponente del marxismo internazionale dell'epoca ecco, Gramsci con altri giovani intellettuali torinesi tenta di mettersi alla guida di questo movimento pre-revoluzionario perché di fatto questi operai occupano le fabbriche le occupano con le armi e da novità anche a consigli di fabbrica a strutture simili ai soviet russi cioè consigli federali dal basso che si riuniscono e discutono Gramsci insieme ad altri tra cui anche un giovanissimo Palmiro Togliatti che poi sarà leader del partito comunista nel dopoguerra si tentano di mettersi alla guida di questo movimento fondano anche un giornale che si chiama Ordine Nuovo che dovrebbe guidare gli operai appunto verso qualcosa di più della semplice protesta verso una rivoluzione verso un cambiamento più radicale c'è da dire che questo bianno rosso che è durato nel 1919 e nel 1920 poi si esaurisce abbastanza da solo si scioglie come neva il sole nel senso che effettivamente per qualche mese c'è un clima preinsurrezionale in Italia ma questo clima viene sedato da una serie di situazioni congiunte in primo luogo iniziano a farsi sentire le squadrazie fasciste non tanto a Milano, Torino dove per carità è anche qualcosa anche lì ma soprattutto nelle campagne dove si erano andate anche lì generando delle rivolte dei sommovimenti grazie alle leghe rosse soprattutto nel nord Italia ecco lì i fascisti con le loro squadre d'azione le squadracce iniziano a menare le mani e il partito socialista ne esce un pelino ridimensionato comunque in difficoltà perché deve tenere testa anche a gente che arriva con i bastoni con le armi e tenta di bloccare queste rivolte con la violenza questo è un elemento l'altro elemento che però riguarda maggiormente appunto Torino e l'occupazione delle fabbriche è il fatto che gli organi principali del partito socialista di cui poi Gramsci faceva parte fino a quel momento sostanzialmente tentennano davanti alla situazione non sanno bene quale posizione prendere è una questione che riguarda un po' se l'avete presente tutte le realtà socialiste europee in quella fase pensate anche alla Germania con la SPD eccetera tentennano perché? perché è vero che Russia è venuta alla rivoluzione è vero che in Russia quel clima preinsurrezionale ha portato a cambiamenti radicali ma è anche vero che c'è un'ala molto forte all'interno dei partiti socialisti europei anche del partito socialista italiano che preferisce una via riformista piuttosto che una via massimalista o rivoluzionale che preferisce arrivare a graduali conquiste piuttosto che una rivoluzione e quindi lo stesso partito socialista diciamola così ha paura che la situazione gli sfuga un po' di mano e tende più a rasserenare gli animi piuttosto che a cavalcare la protesta infine c'è anche da dire che al governo sale Giolitti per l'ultimo come si dice nei libri di testo a volte l'ultimo giro di Walzer e Giolitti con la sua abilità con la sua sagaccia politica riesce in effetti a diciamo così rompere il fronte dei rivoltosi e sedare molto la situazione per farla breve il biagno rosso finisce in nulla di fatto e però nel 1921 proprio al termine di questo biagno rosso gli uomini di ordine nuovo quindi Gramsci Togliatti altri più la componente più di sinistra del partito socialista danno origine a un nuovo partito si provoca la scissione di Livorno e nasce il partito comunista d'Italia di cui Gramsci è uno dei fondatori adesso Gramsci ripeto nel 21 ha una trentina d'anni ha maturato un po' di esperienza ha visto le speranze e i fallimenti della lotta socialista e ritiene che sia il caso di dare origine a un nuovo partito nuovo partito che tra l'altro era stato richiesto anche da Mosca perché come ricorderete Lenin aveva dato indicazione con la terza internazionale con un Comintern ai comunisti dei vari paesi di staccarsi dai socialisti così avviene anche in Italia e Gramsci è ripeto uno dei principali leader di questo movimento tutto quello che vi ho raccontato adesso tentando di fare una sintesi lo trovate esposto in maniera più dettagliata più larga nel video di storia relativo al biagno rosso che vi linko in descrizione cosa accade dopo la fondazione del partito comunista beh in Italia sono anni di grande fermento se ci pensate il partito comunista nasce nel 21 nel 22 c'è la marcia su Roma quindi il fascismo prende il potere c'è da dire che Gramsci nel 22 non è particolarmente attivo in Italia perché si trasferisce per quasi un anno in Russia a studiare gli eventi della rivoluzione a studiare come i russi stanno mettendo in piedi il loro sistema conosce anche lì e studia proprio da vicino il sistema bolshevico un sistema che tra l'altro si sta delineando proprio in quel periodo perché ricorderete che in Russia la rivoluzione è arrivata nel 17 poi c'è stata da uscire dalla guerra dalla prima guerra mondiale poi c'è stata la guerra civile poi c'è il comunismo di guerra insomma sono momenti di grande difficoltà anche in Russia Lenin tra l'altro poi si ammala insomma c'è un sommovimento importante anche in Russia la situazione non è per nulla stabile e però Gramsci si reca la studia capisce impara in modo da tornare poi in Italia maggiormente motivato in effetti rientra in Italia col fascismo che è salito al potere ma siamo ancora in quella fase se ricordate tra il 22 e il 25 in cui il fascismo mette in piedi sicuramente un sistema autoritario violento in cui ad esempio fa entrare nella milizia volontaria per la sicurezza dello Stato gli squadristi in cui usa ancora il pugno di ferro in cui picchia e intimidisce anche durante le elezioni del 24 eccetera ma in cui non c'è ancora una dittatura completa e totale perché c'è ad esempio spazio ancora per i partiti i partiti esistono ancora tra il 22 e il 25 esiste il partito socialista che certo ha molte difficoltà ad agire ma esiste pubblica i suoi giornali esiste il partito comunista ed effettivamente Gramsci che fa attività politica decide proprio in questo periodo di dar vita anche a un giornale per il partito comunista il partito socialista aveva un suo giornale storico una sua testata storica che era Lavanti famosissimo di cui era stato direttore lo stesso Benito Mussolini prima di lasciare il socialismo e prima di diventare fascista di fondare il fascismo ma il partito comunista nato appunto nel 21 a Livorno non aveva ancora un suo organo ufficiale un suo quotidiano un suo giornale e Gramsci lo fonda lo fonda nel 1924 tra la fine del 23 e inizio del 24 questo giornale viene chiamato su proprio iniziativa di Gramsci l'unità e sarà uno dei grandi giornali della storia d'Italia nel senso che in questa fase è un piccolo giornale con una tiratura ancora limitata anche perché il partito comunista non ha tutti questi grandi consensi e fa fatica poi soprattutto a causa del pressante controllo del fascismo ma nel dopoguerra l'unità diventerà l'organo di riferimento del decreto comunista uno dei quotidiani più venduti d'Italia uno dei quotidiani più letti e più influenti d'Italia fondato da Gramsci oggi non esiste più perché poi tutte le vicissitudini dei partiti di sinistra eccetera ma è esistito fino a pochi anni fa e ha avuto anche direttori importanti firme molto importanti allora nel 24 Gramsci fonda questo giornale vedremo che anche l'attività giornalistica ha uno scopo nella sua visione del mondo visione del suo socialismo e continua a fare politica nel 24 viene anche eletto in Parlamento Gramsci quindi riesce a entrare in Parlamento proprio in quelle elezioni che poi vengono contestate duramente da Matteotti ricorderete anche Matteotti deputato socialista eletto in Parlamento farà quel celebre discorso in cui denuncia i brogli denuncia le violenze dei fascisti e poi Matteotti poco dopo scomparirà e verrà ritrovato cadavere ucciso proprio dai fascisti ecco in quei mesi convulsi in quei mesi in cui l'omicidio Matteotti scuote le coscienze il partito comunista e la stessa l'unità hanno un balzo in avanti nel senso che l'unità quasi raddoppia la sua tiratura sembra quasi che gli intellettuali di sinistra possano dare la spallata decisiva al governo di Mussolini ma in realtà come ricorderete nel 1925 a gennaio il 3 gennaio del 25 Mussolini fa un celebre discorso in Parlamento dove si assume la responsabilità dei fatti di Matteotti dell'omicidio Matteotti e complice il fatto che nessuno lo arresta che nessuno lo ferma dà il via a una stretta autoritaria ormai dittatoriale pienamente dittatoriale che mette fine ai partiti i partiti verranno sciolti gli organi di partito i giornali verranno chiusi insomma scatterà una durissima repressione lo stesso Gramsci ne fa le spese perché Gramsci dopo questi pochi anni di attività politica era diventato anche segretario del partito comunista di Italia in questa piccola fase viene arrestato nel 26 per attività sovversiva per attività contro lo Stato viene processato e nel 28 viene condannato a 20 anni di carcere quindi teoricamente Gramsci dovrebbe farsi dal 1928 al 1948 capite che è una pena durissima poi per uno che ha fatto semplicemente attività politica viene messo in carcere non rimarrà 20 anni in carcere perché morirà molto prima già dopo 9 anni nel 1937 verrà scarcerato soprattutto per via delle sue pesantissime condizioni di salute e morirà pochi giorni dopo la scarcerazione ormai malattissimo per via di una serie di problemi fisici che poi nel carcere si si peggiorano notevolmente perché le condizioni di vita nel carcere sono estremamente gravose perché Gramsci aveva già un fisico abbastanza debilitato e questa esperienza del carcere lo debilita ulteriormente quindi morirà nel 1937 ancora giovane perché non è neppure cinquantenne insomma ecco però in questi anni passati in carcere in questi 9 anni passati in carcere a Turi Gramsci ha modo di passare il tempo soprattutto studiando ovviamente non può fare molto perché non può scrive anche qualche lettera abbiamo le lettere dal carcere ma ovviamente non può fare attività politica non può fare propaganda non può fare niente perché è controllato un detenuto politico come altri non è l'unico ovviamente il fascismo mette in carcere moltissimi e qualcuno una buona parte riesce anche a scappare all'estero a rifugiarsi all'estero ma chi rimane in Italia viene messo in carcere o portato al confino come faceva il fascismo ma Gramsci che era un intellettuale di primo ordine non si fidano neppure di mandarlo al confino lo lasciano direttamente in carcere ma ripeto in questo carcere di Turi Gramsci si dedica allo studio lo studio del marxismo della filosofia e anche poi della letteratura della storia insomma si occupa studia varie cose e studiando si mette anche a scrivere si mette anche a elaborare una sua concezione scrive i cosiddetti quaderni del carcere che sono se ricordo bene 43 mi sembra quadernini forse 33 adesso ve lo dico 33 33 quadernini quaderni del carcere che poi le dati tra il 29 e il 35 prima che le condizioni di salute peggiorassero ulteriormente che poi nel dopoguerra verranno raccolte ordinati e pubblicati in una serie di scritti che saranno molto molto influenti perché in questi quaderni c'è appunto la filosofia di Gramsci la sua idea del socialismo all'italiana la via italiana al socialismo come veniva chiamata e delle sue concezioni politiche i quaderni vengono pubblicati in genere in una serie di diversi libri vi leggo i titoli ve li leggo perché a memoria non me li ricordo però giusto per darvi un'idea primo il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce perché come vedremo si occupa anche di commentare Croce due gli intellettuali e l'organizzazione della cultura tre il risorgimento anche perché si occupa pure di storia ne parleremo quattro notte su Machiavelli la politica e lo stato moderno cinque letteratura e vita nazionale sei passato e presente questi sono i quaderni del carcere riediti ripubblicati risistemati che ancora oggi hanno una certa influenza ma adesso era potuta questa lunga premessa storica che era però importante per capire come va delineandosi il pensiero di Gramsci vediamo cosa dice anche in questi quaderni del carcere allora qual è l'obiettivo di Gramsci è che ce ne sono due connessi tra loro interconnessi tra loro il primo obiettivo è quello di ripensare Marx direi così nel senso che il pensiero di Marx si era andato delineando 60-70 anni prima quasi 100 anche per certi versi perché il manifesto del partito comunista era addirittura del 1848 bisognava ora secondo Gramsci riprendere in mano Marx vedere cos'era accaduto nel frattempo tra quello che Marx aveva pensato e gli eventi storici che si erano succeduti ne erano accaduti di tutti i colori c'era stata la crisi di finanziacolo c'era stata la prima guerra mondiale la seconda rivoluzione industriale era successo il finimondo e quindi ripensare Marx voleva dire riconsiderare il pensiero marxista rimanendo fedeli alla sostanza del pensiero marxista ma rientrepretarlo anche tenendo presente i suoi movimenti storici i cambiamenti le modificazioni che Marx non avrebbe potuto prevedere ma che andavano ora tenute presenti quindi in primo luogo questo riconsiderare Marx a ripensarlo a rivederlo alla luce dei fatti ma in secondo luogo poi questo è forse l'interesse principale di Gramsci vedere anche come il pensiero marxista poteva adattarsi alla situazione italiana cioè a trovare la cosiddetta via italiana al socialismo nel senso che Marx aveva delineato il suo progetto filosofico storico e politico la sua filosofia della prassi legandosi soprattutto alle condizioni degli operai della Inghilterra e della Germania sostanzialmente di fine ottocento perché lui aveva in mente quelle condizioni le condizioni degli operai inglesi della seconda metà dell'ottocento e eventualmente le condizioni degli operai tedeschi ma quelle condizioni di 50 anni prima di 60 anni prima non erano più le stesse degli operai di oggi soprattutto degli operai italiani di oggi in fondo già Lenin aveva mostrato che per fare la rivoluzione bisognava in qualche misura cambiare in parte o comunque aggiungere qualcosa del pensiero marxista lo studio della rivoluzione russa ha una certa influenza su Gramsci non perché si debba fare come hanno fatto in Russia esattamente per filo e per segno anzi Gramsci pensa che la rivoluzione in Italia non potrà avvenire come è avvenuto in Russia ma perché l'esempio russo ci dimostra che a seconda delle situazioni a seconda della della contingenza momentanea la rivoluzione può assumere forme strade diverse in Russia ad esempio non c'era una condizione che Marx avrebbe ritenuto ottimale perché non c'era un proletariato altamente diffuso in Russia nel 17 quando ci fu la rivoluzione bolshevica i proletari erano pochi tutto sommato erano una nazione profondamente agricola e contadina erano molti di più contadini degli operai quindi se Lenin se il partito bolshevico è riuscito a fare la rivoluzione ci è riuscito prendendo una via tutta sua per realizzare il marxismo difatti si parla di marxismo leninismo magari un giorno faremo anche un video su Lenin e sulla sua dottrina della presa del potere ecco come Russia si è dovuto in qualche misura adattare il messaggio marxista alle condizioni della Russia stessa così anche in Italia bisognerà fare lo stesso bisognerà cioè cercare ripeto una via italiana al socialismo cioè dei mezzi dei metodi delle strade per realizzare il marxismo in Italia ma tenendo presenti le condizioni della società dell'economia della politica italiana quindi questo è l'obiettivo ripensare Marx e ripensarlo anche in un'ottica tutta italiana per fare questo bisogna prima di tutto secondo Gramsci spogliare il marxismo di certi influssi che si sono andati imponendo nel corso degli anni che però tradiscono un po' la vera essenza del marxismo e in particolare sono due questi impulsi l'impostazione diciamo positivistica che Gramsci contesta notevolmente e l'impostazione quasi idealistica allora vediamo intanto la prima allora cos'è accaduto al marxismo è accaduto che è complice anche Engels perché il primo secondo Gramsci a fare questa cosa è stato Engels Friedrich Engels collaboratore di Marx una buona parte del marxismo europeo si è convinto che le leggi individuate da Marx e la dialettica della storia sia una legge naturale sia una legge scientifica sia una legge positivistica questo è dovuto secondo Gramsci proprio all'influsso del positivismo nella cultura di fin l'Ottocento il positivismo ricorderete quella filosofia che col marxismo non c'entra in realtà nulla perché è un'ideologia prettamente borghese che però ritiene che la storia la società siano segnati da leggi meccaniche da leggi scientifiche addirittura Comte parlava di una sociologia che non era altro che una fisica sociale cioè si pensava che studiando la società si sarebbero potute trovare le leggi matematiche per prevedere lo sviluppo della società e quindi per prevedere il futuro capire come la società si evolveva eccetera ecco questa corrente che poi non era una corrente marxista aveva finito per influenzare in parte anche i marxisti perché una buona parte dei marxisti si era convinta che appunto le varie leggi dell'economia individuate da marx fossero leggi matematiche deterministiche cioè ad esempio che effettivamente il capitalismo sarebbe crollato da solo perché portava in sé i germi della sua distruzione perché la stessa dialettica ricordate quella classe in ascesa la classe in declino della base economica avrebbe portato inevitabilmente alla vittoria della classe in ascesa e alla sconfitta della classe in declino elementi di questo tipo erano presenti anche in marx ma in maniera tutto sommato vaga non si capiva mai bene del tutto se marx pensasse davvero completamente che il capitalismo sarebbe crollato da solo matematicamente oppure se quella era solo una tendenza che poi il proletariato doveva cavalcare e accelerare ecco al di là di marx gli eredi di marx da engles in poi in parte anche all'interno della seconda internazionale sembravano convinti che effettivamente queste previsioni di marx fossero previsioni meccaniche previsioni deterministiche quasi come una legge fisica e quindi aspettavano fiduciosi l'avvento del comunismo perché la società capitalista sarebbe proprio per questioni matematiche interne al suo sistema crollata da sola questo era un'impostazione ripeto naturalistico positivistica perché sembrava quasi paragonare l'economia marxista alla fisica ma Gramsci anche influenzato in questo da un altro pensatore italiano marxista più vecchio di Gramsci cioè Antonio Labriola Gramsci arrivò a pensare che assolutamente non era così quelle individuate da da Marx erano delle tendenze erano delle leggi economiche che ci potevano aiutare a capire la storia a interpretare la storia a capire gli andamenti non a prevedere esattamente il futuro non c'era questo meccanismo deterministico secondo Gramsci pertanto anche la dialettica marxista marxiana se vogliamo una dialettica valida che va tenuta ben presente che va studiata ma non è una legge meccanica non è una legge fisica non può essere interpretata come un dogma insomma questo vuol dire questo implica necessariamente che la rivoluzione non arriverà da sola e la Russia ce lo dimostra e ce lo dimostra anche l'Inghilterra ce lo dimostra anche la Germania l'Inghilterra in Germania Marx e gli eredi di Marx soprattutto si aspettavano la rivoluzione invece questa rivoluzione non è affatto arrivata è arrivata in Russia il paese in cui le condizioni erano meno ideali ed è arrivata non certo perché il capitalismo è crollato da solo è arrivata per un atto volontaristico delle masse proletarie cioè per una rivoluzione per una rivolta armata guidata poi dal partito bolscevico eccetera ora allo stesso modo Gramsci pensa che anche in Italia la rivoluzione non potrà arrivare da sola non sarà il capitalismo a crollare e a lasciare spazio spontaneamente alle masse proletarie al comunismo eccetera bisognerà piuttosto che le masse si muovano che le masse promuovano questa rivoluzione facciano come dicevo prima un atto volontaristico cioè le masse devono fare la rivoluzione ovviamente per fare questo le masse devono però anche essere adeguatamente preparate e stimolate perché le masse da sole non riescono a darsi un obiettivo le masse da sole sono appunto come dice anche la parola una sorta di massa informe che capisce di star male capisce di soffrire capisce di patire di essere sfruttata ma non capisce come risolvere la propria situazione dunque servirà qualcuno che si ponga alla guida di queste masse che dia loro un'organizzazione che dia loro degli ideali delle spinte e vedremo bene come questo potrà avvenire secondo Gramsci però ecco prima cosa da prima errore da liberare da cui liberarci da cui sgombrare il campo è proprio l'errore di pensare che il comunismo sarebbe cioè che il capitalismo sarebbe caduto da solo questo è il primo bersaglio critico ripeto l'impostazione positivistico deterministica che si era venuta a creare nel marxismo il secondo bersaglio polemico invece è poi Benedetto Croce che col marxismo c'entra relativamente poco perché se la penne con Croce vi ricordo che uno di quei quaderni dal carcere proprio è focalizzato su Croce perché Benedetto Croce dominava il mondo intellettuale italiano del periodo dobbiamo anche contestualizzare la situazione degli anni 30 in Italia Croce lo ricorderete un intellettuale neo-idealista fondatore del neo-idealismo italiano insieme a Gentile intellettuale che poi si opporrà risolutamente al fascismo avrà un ruolo sarà il primo firmatario del manifesto degli intellettuali antifascisti eccetera scriverà sempre quanto il fascismo sarà di impostazione e rimarrà di impostazione liberale ebbene Croce aveva una grande influenza sul mondo intellettuale italiano e anche sul mondo intellettuale antifascista era considerato il punto di riferimento all'epoca ecco Croce neo-idealista che si ispira ad Hegel che tra l'altro a sua volta era stato per certi versi anche se in maniera un po' laterale maestro di Marx ecco Croce secondo Gramsci ha intuito qualcosa di corretto ma ha commesso anche degli errori allora in primo luogo sicuramente il neo-idealismo di Croce è importante secondo Gramsci perché ha posto per due motivi primo motivo ha posto grande importanza nella storia Croce parlerà di storicismo assoluto se non ricordate Croce vi metto in descrizione la playlist dedicata a Croce al suo sistema filosofico storicismo assoluto nel senso che ha dato ancora più che non quanto facesse Hegel che pure Hegel aveva dato un grande peso Croce ha centrato tutto sulla storia la storia effettivamente è legge di sviluppo della società legge di sviluppo della conoscenza legge di sviluppo dello spirito quindi bisogna studiare la storia la storia è la chiave di lettura di ogni evento e in questo Croce scusate Gramsci è completamente d'accordo bisogna rilassarsi alla storia perché per capire dove l'umanità sta andando dove la società sta andando bisogna capirne anche le radici perché solo nella storia si vedono i germi del cambiamento e del movimento quindi storia al centro questo sicuramente è un punto a favore secondo Gramsci nella filosofia di Croce l'altro punto a favore l'altra cosa che apprezza è la critica verso la religione tradizionale verso il cristianesimo verso la religione costituita che va superata ovviamente va superata perché è un sistema di controllo di potere che poco ha di vero questa è l'idea in parte anche di Croce sicuramente ma sicuramente anche di Gramsci e del marxismo in generale ma al di là di questi due elementi a favore poi Gramsci sicuramente apprezza anche la direttura ideale di Croce contro il fascismo ma ne critica anche molti aspetti poi una critica anche per certi versi pesante perché intanto direi due cose anche qui intanto l'interesse verso la storia di Croce è sì importante ma l'interesse verso la storia che non è ancora un vero e proprio storicismo assoluto Croce si fa vanto di parlare di uno storicismo assoluto ma il suo storicismo la sua impostazione storica è ancora troppo legata a una delettica idealistica e hegeliana che non tiene conto della realtà oggettiva della realtà di fatti della realtà concreta è una storia ancora troppo ideale e qui si passa infatti al secondo problema il secondo problema è che Croce ha sicuramente scombrato il campo dalla religione tradizionale del cristianesimo eccetera ma di fatto non ha ancora rinunciato veramente alla trascendenza dalla teologia dice Gramsci ha tolto il dio dei cristiani ma ci ha messo il suo spirito al posto del dio dei cristiani e allora serve a poco questo questo cambiamento perché continua Croce a vedere la storia come guidata da qualcosa di superiore o da qualcosa di trascendente non si rende conto invece secondo Gramsci che la storia è sì un suo movimento importante una serie di cambiamenti decisivi ma guidare la storia è la prassi concreta non è un'idea non è qualcosa di elevato e superiore ma è la realtà concreta dei fatti del lavoro delle situazioni storiche cioè bisogna farsi davvero materialisti come diceva già Marx mettere da parte l'idea che guida la storia lo spirito che guida la storia la trascendenza che guida la storia e passare all'immanenza perché alla fine la storia è fatta di uomini e donne che lottano combattono soffrono lavorano faticano questa è la storia non è lo spirito che guida la storia la storia è la storia concreta la storia è prassi riprendendo una terminologia che già abbiamo visto in Marx al riguardo vi metto un link in descrizione anche sul materialismo storico di Marx perché di fatto Gramsci sta riprendendo riportando in vigore il materialismo storico questo sta facendo una sua critica a croce perché qual è il limite di croce alla fine se si concentra sì sulla storia ma se le si dà un paravento un panorama ideale si finisce per non comprendere veramente lo sviluppo storico concreto non comprendere veramente i fatti per come si stanno delineando e si finisce in fondo questa è l'accusa più pesante che Gramsci fa a croce si finisce per diventare intellettuali che diciamo così conservano lo status quo intellettuali che non rompono non cambiano non capiscono il cambiamento non interpretano il cambiamento non promuovono il cambiamento ma intellettuali organici al dominio di una certa classe questo lo capiremo meglio nel prossimo video quando spiegheremo il concetto di intellettuale organico ma l'accusa a croce è questa l'accusa a croce è quella di non aver davvero posto in essere una critica ficcante vera profonda al fascismo ma con la propria dimensione filosofica aver di fatto giustificato lo stato liberale autoritario che poi ha portato al fascismo quindi l'accusa di ramci è molto pesante in fondo perché in fondo croce è responsabile non tanto del fascismo ma di una serie di problemi ad esempio dell'italia meridionale che poi si sono fatti problemi dello stato problemi dell'italia certo lui magari non lo è stato dal punto di vista politico lo è stato dal punto di vista ideale filosofico letterario ma la sua letteratura la sua filosofia la sua storia sono serviti a plasmare questo sistema di un meridione ad esempio molto arretrato di un meridione incapace di fare la rivoluzione quindi di un meridione che alla fine è stato preda del fascismo tra le altre cose quindi il neorealismo di croce ha fallito il neorealismo di croce non ha capito cos'è veramente lo storicismo assoluto il vero storicismo assoluto è quello di Gramsci dice Gramsci stesso cioè uno storicismo che guarda alla storia concreta alla storia materiale alla storia del lavoro alla storia economica ma allora cosa bisogna fare se non va bene l'impostazione positivistica deterministica di Engels e Sotius se non va bene l'impostazione ideale di croce cosa bisogna fare beh secondo Gramsci bisogna ritornare a un materialismo un materialismo concreto immanente come vi dicevo ma anche umanista parla di un nuovo umanismo Gramsci nel senso che bisogna lasciar perdere le leggi matematico scientifiche della storia che non ci sono bisogna lasciar perdere gli ideali spirituali eccetera bisogna guardare all'uomo all'uomo concreto l'uomo che come dicevo prima vive agisce e ha la sua storia materiale bisogna ritornare cioè alla prassi la prassi diventa il concetto fondamentale per Gramsci un concetto che riprende da Marx ma che amplia rispetto a Marx attenzione perché certo anche Marx aveva detto queste cose nella critica ad Hegel aveva sottolineato come la storia doveva diventare materialista cioè studiare il lavoro studiare l'economia eccetera ecco secondo Gramsci certo bisogna studiare il lavoro bisogna studiare l'economia bisogna studiare cioè la base economica cioè la struttura nel linguaggio marxiano ma non bisogna limitarsi solo alla struttura bisogna studiare in ugual misura anche la sovrastruttura sempre nei termini della prassi cosa vuol dire allora vi ricordate qua incipiamo un discorso che poi espanderemo nel prossimo video se vi ricordate Marx e qui trovate sempre il link in descrizione aveva distinto tra struttura e sovrastruttura la struttura era effettivamente la base economica di ogni epoca storica ogni epoca storica aveva una sua base economica un suo sistema di ripartizione del prodotto di classi lavoratrici classi non lavoratrici eccetera c'era un suo sistema economico c'è quella capitalistica c'è quella feudale eccetera ma su questa base economica che è dettata solo appunto dal lavoro e dall'economia si appoggia poi sopra a tutta una sovrastruttura così veniva chiamata da Marx formata dalla cultura dai sistemi giuridici dall'arte dalla filosofia da non so tu quello che volete che finisce per appoggiare sulla base economica cioè l'economia determina poi una certa letteratura un certo giornalismo una certa forma d'arte un certo tipo di stato un certo tipo di leggi eccetera 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 la base era la struttura la conseguenza era la sovrastruttura tant'è vero che diceva Marx basterà cambiare la struttura economica basterà cambiare l'economia perché poi cambino di riflesso tutti gli elementi della sovrastruttura quindi cambierà lo stato cambierà la religione cambierà l'arte cambierà la cultura in fondo così aveva fatto anche Lenin che aveva attaccato i centri del potere economico tramite la presenza del potere per poi assicurarsi che sarebbero arrivate di conseguenza tutti gli altri cambiamenti ecco Gramsci ha un'impostazione invece diversa dice certo bisogna studiare la prassi cioè studiare l'economia il lavoro eccetera ma bisogna considerare prassi anche gli elementi della sovrastruttura cioè in fondo anche la vita culturale di un paese è prassi sono uomini e donne che scrivono pensano leggono riflettono e discutono anche la vita artistica di un paese è prassi perché sono uomini e donne che dipingono scolpiscono che ne so anche la vita politica di un paese è prassi perché sono uomini e donne che discutono in politica eccetera tutto è prassi la prassi non si deve limitare dice Gramsci solo alla struttura lo studio della prassi solo ai rapporti economici ma deve ampliarsi ai rapporti economici ma anche ai rapporti culturali sociali politici eccetera la nuova dialettica dovrà occuparsi di prassi a tutto tondo ricordandosi sempre poi che la dialettica che va ripresa dalla dialettica idealistica dalla dialettica di Hegel eccetera non è poi la dialettica di Croce di Hegel bisogna modificarla anch'essa perché cosa diceva anche Croce cosa diceva anche Hegel è che la dialettica è questa legge dei contrasti per Hegel adattesi antitesi sintesi che però porta sempre a un superamento c'è sempre una sintesi c'è sempre un passaggio successivo e così era in parte anche in Croce contrasti seguiti poi da un superamento un superamento che è in qualche misura anche un adattamento anche una pacificazione ecco Gramsci anche in questo fedele a Marx dice è vero che la storia è fatta di contrasti di conflitti di scontri e in questa prospettiva noi dobbiamo analizzare sia la base economica sia la sovrastruttura perché in tutte in tutte queste questi elementi della plassi ci sono scontri conflitti contrasti ma non c'è quasi mai un superamento dobbiamo ricordarci che da questi contrasti questi contrasti permeano la società questi contrasti sono la vita della società ci sono nei giornali ci sono nella vita intellettuale anche e saranno superati non tanto con una sintesi pacificatoria ma solo nel momento della rivoluzione quindi lo studio della prassi diventa fondamentale per capire identificare i conflitti insiti nella società a tutti i livelli a livello economico a livello culturale a livello politico a livello giuridico eccetera analizzare tutti questi conflitti comprendendo che l'unica soluzione per questi conflitti l'unica vera risoluzione è la rivoluzione è il cambiamento e la nascita di una nuova società socialista che supererà tutte queste conflittualità ma come si può passare a tutto questo come lo studio della prassi possa portare alla via italiana socialismo lo vedremo meglio nel prossimo video come vedete infatti il minutaggio non è molto breve è relativamente consistente quindi per oggi direi di fermarci qui perché abbiamo ancora abbastanza cose da dire vi devo parlare di egemonia culturale vi devo parlare anche del risorgimento italiano dell'interessante analisi che Gramsci fa del risorgimento insomma c'è ancora qualche cosa da dire non tantissimo basterà credo un video però c'è un video apposito quindi ne parliamo meglio nella seconda parte dedicata a Gramsci nella seconda puntata per il momento ci fermiamo qui vi ricordo che in descrizione trovate i titoletti che sono comparsi qui mentre spiegavo in modo da se volete fargli partire il video da un punto specifico ad ascoltare una parte trovate anche i link ai video che ho citato a Marks eccetera e trovate anche e soprattutto i link alle playlist principali ai social network e alla newsletter settimanale a cui potete abbonare dove se volete rimanere informati sui video sui podcast su tutto quello che faccio anche libri eccetera basta ho finito ci vediamo presto per nuovi video su Gramsci sicuramente ma poi anche più in generale di filosofia storia ed educazione civica ciao alla prossima